Pogba ritorna protagonista sui social, rompendo il silenzio sulla sua situazione Ecco, di seguito, la foto.Dopo un periodo di silenzio segnato da controversie, Paul Pogba è tornato sotto i riflettori dei social network con un messaggio enigmatico che ha scatenato un mare di speculazioni e reazioni contrastanti. Il centrocampista francese ha pubblicato su Instagram una foto di sé durante un allenamento, vestito nei colori bianco e nero, accompagnata dalla frase misteriosa aspettatevi l'inaspettato. Un'annotazione che ha alimentato la curiosità dei suoi follower e dei fan del calcio in generale, lasciando spazio a diverse interpretazioni sul significato dietro queste parole. Pogba è la frase enigmatica, cosa vorrà dire? La pubblicazione di Pogba arriva dopo il silenzio che ha circondato il comunicato relativo alla sua squalifica di quattro anni per doping, una notizia scioccante che ha scosso il mondo del calcio e ha sollevato interrogativi sulla sua carriera e sul suo futuro. Ora, con questo messaggio criptico, Pogba sembra voler comunicare qualcosa di importante, forse un messaggio di determinazione e resilienza di fronte alle difficoltà, o forse un indizio su un'azione imminente che sorprenderà tutti. Su Instagram, i commenti dei suoi follower riflettono la divisione di opinioni tra chi sostiene il giocatore incondizionatamente e chi, invece, mostra delusione o scetticismo di fronte alla situazione. La pubblicazione di Pogba ha quindi, indubbiamente, acceso i riflettori sui suoi movimenti e ha alimentato ulteriori speculazioni sul suo futuro nel mondo del calcio. Resta da vedere cosa riserva il destino per il talentuoso centrocampista e cosa significhi esattamente il suo enigmatico messaggio. La sua situazione rimane avvolta nel mistero, e i fan rimangono in attesa di ulteriori sviluppi che possano chiarire la sua posizione e i suoi prossimi passi.